6 guarigioni sono state registrate nella giornata di ieri a Torrella Greco, certificati anche due nuovi casi di positività al Covid-19 in isolamento domiciliare per uno dei quali si tratta di ricontaggio. Attestato un decesso, la cui positività al virus è stata accertata post-mortem. Continua così a mutare il bilancio dei contagi nella città, che ora conta 475 attuali positivi, 2-29 ospedalizzati, 1.704 guariti e 53 decessi. A Castellamare di Stabia i cittadini guariti superano nuovamente i nuovi casi positivi. Sono 18 i soggetti risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri. Solamente 4 di essi risultano avere sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati ci sono un 87enne ed un 85enne. Dichiarate guarite 23 persone, tra di essi un 73enne ed un 63enne che sono stati dimessi dal Covid Hospital di Bosco Trecase. Sono quindi 1.517 gli attuali positivi, 1.012 guariti e 27 deceduti. Ulteriori miglioramenti nei dati epidemiologici a Portici. Diminuisce il numero dei positivi al Covid-19 in città. Nei giorni dal 4 all'8 dicembre si registra un numero di tamponi effettuati ai cittadini di Portici pari 875 con un esito di nuovi contagiati pari 81. La percentuale di positivi sul numero di tamponi si abbassa al 9,2% con un numero di guariti, 145, di gran lunga superiore al numero di nuovi positivi. Continua a scendere la curva dei contagi sul territorio di Arcolano. Dai dati forniti all'ASL emerge che i cittadini risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri sono 564, diminuiti rispetto ai 580 dei giorni precedenti. Infatti, a fronte di 4 nuovi casi, sono stati comunicati ulteriori 20 soggetti guariti, per un numero totale di 1.192 cittadini che hanno superato il virus.